Questa patata bollente, cioè di Rimini, è una materia così complessa. No, io credo che qualsiasi legame rispetto a un omicidio orribile, che tra l'altro è nei confronti di una giovane donna, e come si è visto, e anche con delle modalità assolutamente risibili, casuali, legarlo alla razza è una cosa veramente da sciacalli. Quindi io considero veramente questi commenti indegni, soprattutto qualificanti per chi li esprime, per il partito politico che li esprime. Io voglio ricordare che la Lega ha ospitato Vannacci, che di questi commenti ne fa continuamente, che ci ha abituato purtroppo a delle valutazioni che sono legate alla razza, che ci riportano purtroppo a momenti bui anche del nostro passato e della nostra storia. Io credo che si qualifichino da soli, credo che dobbiamo lavorare molto sull'integrazione, che dobbiamo lavorare moltissimo sul fatto di condividere con chi arriva in Italia dei valori, delle regole e ovviamente il fatto di essere cittadini come tutti gli altri. Tra l'altro, come è stato ricordato, è un cittadino italiano e quindi che abbia la pelle nera, la pelle bianca, la pelle gialla, la pelle verde. Credo che debba seguire le regole, debba essere perseguito secondo la nostra giustizia. e queste sono le valutazioni che devono essere fatte. Legarle veramente alla provenienza è una cosa che si commenta da sola. Chiaro. Prima di...